Maria, donna grassa, rimane incastrata nella tazza del water. Il marito prova a tirarla fuori e non ce la fa. Maria, dobbiamo chiamare i vigi del fuoco. Non so, però, queste adesso arrivano, mi vedono nuda qui. Io non mi vergogno. Dammi qualcosa da mettere davanti. Dammi il sombrero attaccato su lì, nella porta, no? Il marito gli prende il sombrero, glielo mette davanti, arriva il comandante dei vigi, da un occhiato intorno alla tazza, chiama il marito e gli dice, allora, per sua moglie non c'è problema. con un piede di porto, la facciamo, leva sotto, riusciamo a tirarla fuori, però per il mexicano non c'è più niente da fare. Eh, è vuoto?